Dottoressa Nicolò, sono diversi mesi che si stanno effettuando i controlli serrati per verificare gli allacci abusivi alla rete idrica. A che punto sono questi controlli e se continueranno soprattutto ancora? Sì, i controlli continueranno ancora. In questo momento stiamo procedendo all'allaccio di contatori nei confronti degli utenti che ne avevano fatto richiesta. A fine mese scade il contratto per la ditta che ha avuto l'affidamento del servizio per un bimestre perché siamo venuti a conoscenza che la stazione unica appaltante ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta che si è giudicato all'appalto per una manutenzione più lunga. Chiaramente che va avanti non soltanto per due bimessi ma per tre anni. Quindi una continuità in questo senso. Si sono appurati che c'erano molti allacci abusivi con un danno economico nei confronti del Comune? Sì, e noi stiamo perseguendo. Oltre ad aver proceduto alle denunce, perché chiaramente si tratta di furto d'acqua alle competenti autorità, abbiamo proceduto anche ad una regolarizzazione nei confronti di tutti gli utenti che procedevano ad un utilizzo di acqua chiaramente anche improprio. E' da un po' di tempo che il tratto fognare di via Casalani e i lavori sono fermi. Che cosa sta succedendo? Oggi è in atto alle 14 c'è una conferenza di servizi con il responsabile del progetto dei Grandi Laghi, con i nostri funzionari dell'ufficio tecnico in Regione Campania, per procedere in qualche modo a verificare i presupposti per l'approvazione di una perizia di variante, per dover uniformare il progetto di via Casalani a quello dei Grandi Laghi, perché sono stati progetti appaltati in più lotti e non avevano al momento alcuna possibilità di recapito univoco. Grazie. Grazie.